...issimo Cucchi... ...che sta giocando in dieci dall'avvio di ripresa... ...attenzione del vecchio, un momento importante dell'incontro, Zarate tiro proprio tra le braccia di Andanovic che era rimasto a centro porta, clamoroso è il modo in cui Zarate ha tirato il calcio di rigore fallendo l'opportunità per la Lazio di riaprire la partita, resta sul 2 a 0 l'incontro...